Ed eccolo dottori e dottoresse, buongiorno, bentornati qui sul canale di Marco Costanza che oggi fa questo setup un po' diverso perché l'applicazione che dobbiamo andare a guardare è tutta su smartphone e quindi mi sono adeguato, mi sono... che cazzo ne frega l'importante è che viene un bel tutorial, una cosa chiara e completa perché oggi guardiamo un'applicazione che, a parer mio, ogni, e dico ogni, bitcoiner deve avere perché oggi vi mostro un'applicazione ipercomoda per comprare bitcoin e anche vendere bitcoin senza totale KYC, in totale privacy e anonimato quindi non si tratta delle applicazioni di cui vi parlo di solito, che hanno un KYC lite ovvero voi acquistate bitcoin tramite un'azienda che dunque si sa che quell'azienda vende bitcoin e quindi è vero il KYC è demandato alla vostra banca ma c'è una sorta di traccia con pitch e tutto ancora più anonimo ancora più privatizzato oggi andiamo a scoprire come funziona quindi allacciate le cinture come si suol dire che vi farò vedere questa applicazione veramente fantastica è veramente facile da utilizzare come procedere? È facilissimo prima di tutto andate qua sotto così vi assicurate di cliccare il link per il sito ufficiale così non incappate in truffe, scam, eccetera, eccetera andate qui sotto, cliccate sul link e sul sito ufficiale vedete che ci sono i bottoni per scaricare l'applicazione sul vostro dispositivo Android, iPhone, in base a quello che avete l'applicazione è in beta quindi vedrete che il download avviene tramite l'app TestFlight e anche per questo voi potete scegliere proprio qua all'interno dell'app quale versione volete utilizzare in questo caso io vi consiglio di utilizzare l'ultima la 0.2.11 perché ha tutti i bug sistemati ed ha anche la lingua italiana che nel senso può fare molto comodo avviate l'applicazione guardate qua che bellissima schermata e una volta avviata insomma fate le classiche procedure accetto, vai avanti, chiudi, fai, dici spendi, espandi, espondi la cosa importantissima ora è inserire il codice promo costanza perché dovete inserire questo codice promozionale? allora, primo perché mi fate un favore a me che Pici dice ah, ma vedi che allora Marco ce le porta le persone che allora Marco è bravo e quindi è giusto che noi ci facciamo altri video insieme quindi questa è la prima motivazione la più importante la seconda è che ho parlato con il team di Pici e anziché farmi dare il classico tipo mi pare che con Referrara voi ottenete 100 punti anziché farci dare la classica reward abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella e quindi probabilmente avrete molte più cose come dei trade gratuiti e altre chicchettine con questo codice sconto quindi ascoltate uno scemo inserite costanza che ci guadagno io ci guadagnate voi e ci guadagna Pici e siamo tutti contenti una volta inserite il codice vedete avete due tasti nuovo utente o ripristina ripristina lo fate se già avevate un account Pici altrimenti cliccate su nuovo utente e direi che possiamo subito entrare all'interno dell'app e vedere come comprare e vendere bitcoin in totale anonimato ok adesso andiamo a vedere come si compra su Pici alcune doverose considerazioni prima di partire allora uno stiamo comprando da privati quindi Pici è un'azienda svizzera comunque esiste come entità ed è per questo che ha dei limiti di acquisto parliamo di circa 900 euro al giorno come insomma vi ho detto per tutte le altre aziende è 100.000 euro l'anno quindi non penso che voi abbiate problemi a comprare barra vendere certe somme di bitcoin comunque il fatto che io collaboro collaboro che io commercio con dei privati significa che Pici fa solamente da intermediario e quindi perché il KYC qua è ancora inferiore rispetto all'applicazione di KYC light perché qui io non sto comprando niente da Pici e quando io faccio un acquisto quando io faccio una transazione vedrete poi che ogni utente pubblicherà le proprie offerte di vendita io compro da un privato come posso comprare questo paio di occhiali posso comprare un telecomando un xbox una play una televisione insomma quindi lo scambio è tra privati e anche Pici poi lo vedrete vi dirà non scrivere nulla che riguardi Pici o bitcoin nelle causali questa cosa è importante per continuare a mantenere la propria privacy l'ultima cosa che vi devo dire è appunto che essendo uno scambio tra privati il prezzo lo decide il privato e quindi come funziona Pici che chi vende su Pici noi vedremo sia l'acquisto che la vendita state tranquilli decide quante commissioni applicare e quindi io ipotizziamo che il prezzo di bitcoin è 30.000 euro posso dire vendilo a 30.000 euro più l'1% oppure il 2 il 3 il 4 il 5 il 10 fino al 21% di commissioni ci posso applicare ovviamente più metto le commissioni alte più sarà difficile trovare qualcuno disposto a comprare bitcoin da me però non si sa mai in un momento di particolare scarsità di mercato io posso anche vendere bitcoin con un prezzo superiore e comprarlo quando il prezzo è un po' inferiore fare una sorta di arbitraggio comunque andiamo a vedere come funziona l'applicazione apriamo Pici andiamo nella questione nella questione nella sezione acquista bitcoin e o tramite lo slider o inserendo direttamente la cifra selezioniamo il range di bitcoin che vorremmo comprare perché almeno poi vediamo tutte le offerte che ci sono in quel range una volta selezionati il range che ci interessa comprare quindi che ne so da 10 a 800 euro qualsiasi cosa va bene il consiglio che vi do è quello di aggiungere più metodi di pagamento possibili e guardate ce ne sono un'infinità bonifico sepa e bonifico istantaneo sepa paypal revolute wise n26 e tutti gli altri che io non ho mai utilizzato buoni regali amazon e anche satis pay fino al 13 di agosto inoltre satis pay ha un'offerta per cui non pagate commissioni verso pitch quindi consigliatissimo liquid usdt su rete liquid se non sapete che cos'è significa che non dovete utilizzarlo quindi lasciate pure gli altri metodi di pagamento ma anche chicchettina meetups infatti ci sono dei gruppi preimpostati voi selezionate italia e vedete che insomma potete scambiare bitcoin cash a mano e quindi non c'è niente di più non che ui si che è un bello scambio con contanti sonanti comunque selezionate l'importo selezionate i metodi di pagamento pubblicate l'offerta e ora pitch vi va a cercare i match dice per quello che tu vuoi comprare ecco quello che stanno vendendo qua vedete c'è il 5% di commissioni qua abbiamo il 6% qua il 9% e poi troviamo un'offerta al 6% e quando ho trovato l'offerta che vi piace cliccate e accettate l'offerta una volta che avete accettato l'offerta dovete aspettare che dall'altra parte ovviamente ve l'accettino nel frattempo se proprio volete potete cliccare su visualizzare il deposito e pitch vi farà vedere che quella persona lì che li sta vendendo ha realmente depositato quei bitcoin in cauzione quindi non c'è stato qualcosa di strano per quale lui li ha messi in vendita ma poi li ha prelevati quindi quei bitcoin sono lì esistono e quindi voi siete insomma tutelati da questo da questo punto di vista una volta che quindi voi avete fatto la vostra richiesta di match per cercare di comprare aspettate che la persona accetti nel momento in cui vi arriva la notifica che l'altra persona ha accettato benissimo voi aprite il match vi verranno dati tutti i dati di quella persona in questo caso qua aveva scelto bonifico sepa quindi mi ha lasciato il suo IBAN e a chi io dovessi fare il pagamento quindi ho aperto la mia app per fare il bonifico istantaneo eccola qui faccio il bonifico e una volta che ho fatto il bonifico clicco su pagamento effettuato a questo punto devo aspettare che la controparte dica sul proprio smartphone è vero ho ricevuto il pagamento e i bitcoin vengono inviati al mio wallet di pitch lasciate una brevissima recensione pollice giù pollice su se vi è piaciuta non vi è piaciuta come è andata la come è andato lo scambio e qua vedete dettagli dello scambio 44 euro pagati con bonifico sepa oddio mi sono perso eccolo qua vabbè pazienza 44 euro pagati con bonifico sepa questo è il wallet di pitch dove potete vedere che io ho qua la somma che ho appena comprato a questo punto cosa faccio prendo e invio tutto su un mio altro wallet perché pitch può essere utilizzato come wallet non custodial ma è sempre preferibile utilizzare un wallet esterno quindi seleziono l'indirizzo faccio lo slide clicco invia tutto e in questo momento i bitcoin vedete che sono praticamente in invio verso il mio altro wallet una volta fatto questo direi che insomma non c'è più nient'altro da vedere potete anche nel caso in cui voi avete pubblicato un'offerta come vedete annullare quell'offerta quindi dite ho cambiato idea non voglio più comprare lascia perdere e quindi la annullate e non succede nulla e questo è quanto ecco come acquistare bitcoin nel metodo più facile possibile e in totale anonimato ma adesso andiamo a vedere dall'altra parte cosa succede cioè quando io voglio vendere bitcoin come funziona come si fa a vendere bitcoin andiamo subito a vederlo quindi vi dico già che vedremmo due situazioni la prima nella quale il pagamento noi non vogliamo accettarlo perché abbiamo cambiato idea qualcosa non ci è piaciuto insomma abbiamo decidiamo di non vendere più e quindi vediamo come annullare una vendita il secondo invece è proprio quando vogliamo fare una vendita e questa va a buon fine allora primissima cosa che dobbiamo fare anche qua è selezionare la quantità di bitcoin ovviamente qua non c'è un range perché noi sappiamo esattamente quanti bitcoin vogliamo vendere quindi selezioniamo il numero di bitcoin in bitcoin o in euro che vogliamo vendere e diamo avanti ci verrà chiesto di inserire un premio cos'è il premio ovviamente può essere o premio o sconto un premio vuol dire una commissione superiore a quello che costa bitcoin quindi noi decidiamo di vendere bitcoin con il 5% di commissioni in più nel caso potreste anche decidere di vendere bitcoin con il che ne so 1 2 3 5% di commissioni in meno cioè sotto al prezzo di mercato perché far questo perché magari ho fretta di vendere mi servono all'istante quindi sono disposto a vendere bitcoin con un prezzo inferiore seleziono i metodi di pagamento che voglio accettare e vado avanti qua posso selezionare il wallet sul quale voglio ricevere i bitcoin allora quali bitcoin quando io faccio un'offerta nel caso io voglia essere rimborsato questi bitcoin posso decidere di o rimandarli al wallet di pitch o di rimandarli sul mio wallet originale questo perché proprio come vi ho detto io potrei cambiare idea ad un certo punto e decidere di non voler più vendere i bitcoin ma non vi preoccupate che adesso vi spiego come fare quindi seleziono ad esempio qua blue wallet che è il mio wallet personale dico ok nel caso rimandami di qua i bitcoin che non ho venduto selezionate il wallet selezionate il wallet che volete utilizzare e vedete che vi appare una schermata dove vi dice ok adesso devi finanziare questo deposito devi mettere una cauzione qui cliccate su o copiate l'indirizzo o c'è direttamente il tasto per aprirvi l'applicazione e fare già il pagamento in automatico quindi io qui stavo vendendo circa 100 euro di bitcoin faccio l'ok vedete che in questo momento io sto prendendo i bitcoin dal wallet di blue e li sto inviando come cauzione come deposito al wallet ad uno dei wallet di pitch all'applicazione di pitch questo serve proprio per dire io voglio vendere questi bitcoin ti faccio vedere che sono il proprietario perché li sto muovendo e te li sto mettendo in un tuo wallet e quindi sono bloccati lì poi nel caso la transazione vada a buon fine vanno all'utente nel caso non vada a buon fine ritorneranno a me una volta inviati aspettiamo pitch deve attendere che i bitcoin arrivino a quell'indirizzo potete guardare sempre qua su main.space la transazione a che livello è se è già dentro il blocco è stato confermato oppure no una volta confermata eccolo qua vi verrà pubblicato l'annuncio e sarà in attesa di match la cosa interessante è che voi anche una volta che l'offerta è stata pubblicata potete cambiare la commissione vedete prima dall'1% passo al 5 poi ripasso all'1 poi posso scegliere addirittura come vi dicevo di metterlo in sconto quindi venderlo a meno di quello che costa sul mercato quindi insomma ho totale libertà di gestire la mia vendita come meglio preferisco adesso andiamo a vedere cosa succede quando però io accetto un'offerta per sbaglio in questo caso l'applicazione era ancora nella versione precedente e non mi faceva accettare con paypal e io cliccando per sbaglio ho cliccato su accetta amazon gift ma io non volevo accettare un amazon gift card e quindi ecco cosa ho fatto ho aperto l'offerta che avevo accettato ho aperto la chat e sono andato a scrivere appunto alla controparte guarda mi spiace c'è stato un errore ho accettato per sbaglio non dovevo accettarla non voglio il pagamento così e cosà eccetera eccetera a questo punto ho cliccato sulla x in alto a destra e ho detto guarda annulla lo scambio ovviamente quando annullate una transazione soprattutto se quella persona aveva già fatto il pagamento lì ovviamente è ancora un po' più un casino però se la persona non ha ancora fatto il pagamento voi annullate lo scambio e ricevete una penalizzazione sulla reputazione la reputazione cresce ogni volta che lo scambio va a buon fine e decresce ogni volta che ci sono dei problemi questo perché voi oltre a guardare il livello di commissione di quei bitcoin che state comprando potete anche vedere se chi li sta vendendo è una persona che solitamente fa le cose ben fatte oppure se crea sempre dei problemi comunque una volta che dite no io questa cosa non la voglio più fare annullate lo scambio è finita lì tutti amici come prima i bitcoin che avevate depositato a quell'indirizzo che io vi ho fatto vedere sapete che c'era quell'indirizzo dove voi dovete depositare in cauzione i bitcoin vedete che se andate sull'offerta come status esce rimborsato vuol dire che quei bitcoin che io non voglio più vendere sono tornati al mio wallet blu originale ma mettiamo caso che invece voglia fare un'offerta quindi ad esempio qua ho accettato un'offerta di Satisfay io accetto l'offerta alla persona arriverà un messaggio aspetterò il pagamento ricevo la notifica del pagamento perché lui è stato detto guarda che la tua offerta è stata accettata adesso paga praticamente quello che abbiamo visto nella sezione di prima lui paga io ricevo il pagamento in questo caso mi è arrivata la notifica su Satisfay ritorno sull'app di pitch e dico guarda ho ricevuto il pagamento è andato tutto secondo i piani quindi voi fate fate l'accettazione fate l'accetto accettate e fine non dovete più fare nulla anche qua in questo caso date un vuoto un voto io quando registro troppo i video di fila poi finisce così date un voto alla transazione e fine ecco qua che avete venduto i vostri bitcoin e andiamo a vedere l'ultima sezione anche forse la più importante perché è quella del backup infatti se voi avete dei fondi sul wallet di pitch io vi ho detto che è un wallet non custodial questo significa che siete voi che dovete avere il backup delle 12 parole adesso vedremo in maniera anche più facile direttamente del file del wallet comunque andiamo nelle impostazioni la prima cosa che potete guardare sul vostro profilo è i limiti come vedete ci sono un limite di 1034 euro di scambi giornalieri un limite mensile di 1034 euro per gli scambi totalmente anonimi quindi insomma quelli totalmente senza che vuoi sì e un limite di scambio annuale di 103.449 euro insomma se vi interessa potete vedere a quanto a quanto state con i vostri limiti poi un'altra cosa importantissima che invece dobbiamo andare a vedere è quella delle commissioni di rete perché qua noi gli stiamo dicendo all'app guarda io voglio che le mie transazioni quando mi deve rimborsare o sto depositando quando sto depositando no le scegliete voi dall'altro wallet quando volete prelevare guarda che voglio che siano velocissime mi basta che siano lente insomma qua decidete quanto volete pagare per ricevere i soldi più o meno velocemente questa è la vostra scelta io lascio lo standard economico perché mi piace risparmiare una volta fatto questo qui potete anche cambiare tutti i vostri metodi di pagamento ma anche selezionare appunto l'indirizzo sul quale volete ricevere il rimborso quello che vi ho fatto vedere prima dove avevo inserito blue wallet e adesso la cosa più importante di tutte è il backup due tipi di backup il primo tramite un file protetto da una password che scaricate sul vostro telefono quindi inserite una password create il backup e lo salvate sul telefono ulteriore backup che io vi consiglio comunque sempre di fare andate a appunto su fase di ripristino qua vi darà le 12 parole da dovervi segnare ve le salvate su un foglietto da qualche parte e con quelle parole se voi avete qualcosa nel wallet di pitch perché avete comprato e quindi vi è rimasto lì non li avete ancora trasferiti potete sempre recuperarli nonché recuperare anche il vostro il vostro profilo quindi dottori questo è quanto questo è tutto io direi che non ci sono ulteriori cose a dire pitch è un'applicazione estremamente comoda estremamente facile spero di aver affrontato ogni minimo dettaglio che potrebbe andare più o meno storto in quello che è una vostra fase di acquisto di vendita ma insomma è molto banale è molto molto facile e quindi come vedete insomma non ci si può sbagliare io vi saluto vi ringrazio fatemi sapere cosa ne pensate di questo tutorial di questa applicazione soprattutto se la utilizzerete perché insomma la amo e probabilmente per fare degli acquisti sicuramente non sono comodi e non sono come dire economici come fare degli acquisti per i fatti propri tramite che ne so bitcoin voucher bot o rely o tante altre applicazioni che vi ho fatto vedere con che vuoi si light quindi ovviamente ci sono dei trade off da poter fare se però quello che volete principalmente la privacy l'anonimato questa è sicuramente l'applicazione migliore grazie mille lasciate un bel like se questa serie di video vi piacciono se questi tutorial vi interessano noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo entusiasmante video buon ringraziamento ciao 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 Grazie a tutti.